Da Pescara si potrà volare verso Catania. Questa mattina è stato infatti inaugurato il volo della compagnia aerea Low Cost Volotea che consentirà di ridurre le distanze fra l'Abruzzo e la Sicilia. Il collegamento avrà due frequenze settimanali ogni lunedì e giovedì per un'offerta totale di 16.500 biglietti a partire da 19 euro. I passeggeri quindi potranno raggiungere ancora più comodamente con facilità Catania, una delle città più belle e vivaci della Sicilia e anche punto di partenza per escursioni nelle zone di Mitrofi. Volotea conta 15 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo avvenuto nel 2012, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017. Siamo felici di essere qui oggi per l'arrivo del nostro primo volo Volotea da Catania a Pescara. è terrato oggi l'aeromobile e quindi partono da oggi i voli che collegheranno Pescara all'isola siciliana, in particolar modo a Catania. I voli sono operati due volte alla settimana e sono già in vendita sul sito di Volotea, volotea.com. Tutti i voli si possono acquistare con tariffe a partire da 19 euro a tratta, tasse aeroportuali incluse. Al momento sono in vendita per volare fino al 13 dicembre, ma ben presto lanceremo i voli anche per la stagione picco dell'inverno, cioè per Natale, per poi proseguire verso la prossima estate. Ci tengo a precisare che con Volotea è possibile portare a bordo due bagagli a mano, quindi un trolley e una borsetta per un peso totale di 10 kg e che è possibile portare a bordo anche piccoli cani e gatti fino a un peso massimo di 8 kg. Con l'arrivo del vettore Volotea qui all'aeroporto di Pescara proseguiamo con questa nostra strategia di pluralismo dei vettori aerei, di arricchimento delle presenze. Volotea è una compagnia italiana molto importante, in Italia e in Sicilia in particolare. E con questa rotta su Catania noi apriamo la Sicilia. Oggi con un successo strepitoso, perché abbiamo 115 passeggeri in arrivo e 111 in partenza avendo disponibili 120 posti e ci prepariamo con Volotea, se tutto andrà bene nei prossimi mesi, a nuove rotte molto importanti.